Attimi di panico stamattina in zona Borgo Trento. Un uomo armato di 45 anni è entrato poco prima delle 11 nella filiale del banco BPM di via 4 novembre. Una dipendente della banca ha comunicato quanto stava accadendo a una collega di un'altra filiale che ha chiamato le forze dell'ordine. La polizia ha convogliato tutte le forze disponibili sul posto con la squadra mobile che è giunta in tempo per bloccare il rapinatore. L'uomo di origini foggiane è stato portato in carcere a Montorio a disposizione dell'autorità giudiziaria.